Ciao ragazzi e ben ritrovati dal vostro canale sciolto 1,2,3 Oggi siamo su Sola Smash Un gioco veramente molto bello E ci giocheremo un po' Però prima un bel like che viene per la descrizione Che è tutto creduto E se volete attivate anche la campanellina Iniziamo subito raga Ehm Beh dai Iniziamo con la terra Una cosa molto semplice Dai dai raga Cioè andiamo di questi che sono molto piti devo dire Dai Michelle Ok Ok abbiamo quasi ucciso un milione di persone Però questi sono dettagli Ok Raga Però se proviamo questo Mi sembra che facciamo il giro di tutta la terra Però Visto che voglio distruggere Il pianeta Devo provare a fare una cosa strana Cos'è? Cos'è? Cosa? Puh E' OP Laga è OP 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 Cioè si vede il nucleo Della terra Distruggiamo il nucleo della terra Cioè ci siamo Vengono solo 2 bilioni di persone Cioè ci vuole 2 miliardi Adesso ci va pure il laser Dovrebbe dare Un tocco Per distruggere L'epicentro della terra Cioè il nucleo Proviamo col Con il cracker E' OP Pure il cracker E' OP Lo abbiamo capito L'abbiamo capito Raga Ma vabbè Non si riesce a distruggere il nucleo Forse ho un po' abbondato Devo dire Vabbè dai Abbondiamo Aia nel nucleo Voglio provare Voglio provare a congelare Ok pure a congelare Mettiamo pure Cosa qua E' OP Cioè fa il buco Nella terra Cioè è proprio facile E così si distrugge Cioè 0 milioni Sono morte 8 milioni di persone 4 milioni Beh Credo che abbiamo vinto Abbiamo Stanno finendo a mangiare Qui c'è un altro pezzo di nucleo Che rompiamo con il laser Però Non riesco a distruggere Mettiamo un po' di no Mi sta laggando tutto Bene Bene Ok Allora Premiamo questo Non ho capito L'esplosione Niente no Però sinceramente Non l'ho proprio capito In realtà Abbondiamo Di astronavi alieni Proviamo a mettere il laser Abbondiamo 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 Poi che Che mettiamo raga Io provare a mettere questa roba Non l'ho mai provata Niente male Niente male Niente male Sono forti Sti dragoni Sono super forti Mettiamo un altro dragone Ma se ne sono già andati Adesso vorrei fare una cosa strana Vorrei distruggere No ho sbagliato Però vorrei distruggere Ah ci sono pure le bombe Vorrei distruggere la luna E credo sia una cosa Un po' difficile Si faccia così Dove erano? Ok Questo è il momento giusto Però la mira È sbagliata Eh ho sbagliato Vabbè raga Un po' sì Non si può fare Sì si può Sì si può pure fare Però Cioè Non riesco Siamo troppo lontani Mi sa Proviamo a buttare un gioco Ah Aspetta Aspetta raga Ma c'è pure il sole Non possiamo Aspetta Ah ma in tutto C'è la luna Esplosa L'abbiamo fatto esplodere Ok Mi sa cosa succede Se facciamo esplodere il sole Raga No Non riesco Esplodere Però mi sa Che si può fare esplodere Vabbè Abbiamo vinto Raga Spero che il video Vi sia piaciuto Dal vostro canale Sciolto 1 2 3 Iscrivetevi A lasciate un like Ciao 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 Ciao